E' vero che percibisco con lì tanto E' bello che provare 3, 2, 1 Bello, riuscito a provare Oh, sono già stanco Il primo fatto per 8 minuti Ci ho meglio a piedi Ale è finita la pacca Buongiorno Ciao Sei bellissimo ragazzi Ale Non è che la risposta Vabbè, giusto qualche adesivo ci ha messo Siamo arrivati troppo presto, ci sono le trombe E adesso in sella Ansia, ansia, ansia Presto E prendiamo 5 secondi Sono 5 millesimi, andiamo da dio Quest'anno L'anno scorso vi ho fatto il filmato Allora quest'anno li ho rifaccio Buongiorno Buongiorno Un anno in più No Anche lei Anche lei E mi sa Allora Appena appena un po' di casino poco poco Guarda quanto abbiamo fatto Viene scherzando Se il primo è tornato Se vanno indietro Ti mancano sedi Panno gli aldo Dai Mi raccomando bevi eh Bevo cosa? L'anno scorso hai avuto la crisi No ma quella è uguale Bevo non bevo Quella ce l'hai comunque Sì quella Non c'è problema Allora i ciclisti passiamo con il rosso Facciamo la corsa campesca Ti figo Ciao Dopo si prende a 6 giorni via sul Giao Ah beh buono dai Stanno che riusciva a farla pedalando E cerca a farla a piedi Uniti nel disagio Un diversivo Ci voleva Tanto non cambia niente Arriviamo un po' a mezzo uguale Questa è una campagna bellissima Questa è una campagna bellissima Grazie Guarda un po' a te l'instruzione Ah Un gaming Primo giro A seconda Hai uscita da curvare Che viene lì Ehm 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 Inami Secondo giro sono meno pimpante di prima, siamo al girone dei disperati, quelli che vorrebbero ma non ce la faranno, come me, adesso vi do una bici, mi date la moto? Eh dai, è quella la guarda, comunque come vedete arriva qualcuno e quindi non è che sono proprio l'ultimo stavolta Stavolta non sbaglio, abbiamo chiuso qua il 11, sono nelle ore? No, 10 e mezzo, ho quasi fatto, 10 minuti, si provalo via, perché non fate il lungo, perché non fai il lungo lei che bravo, sono troppo vecchio, ho 74 anni, perché non fate il lungo voi, perché ho 70 anni, hai evitato? Ciao, 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 ciao 먹는 o meno vado piano? Sì, sì, tranquillo vado piano, adesso c'è il fast arruco che non finisce più. Eh? Eh? Tanti ti... di non guardare il chilometri Vedete che silenzio che c'è... bello... non passa niente, a parte questi..rente abbiamo fatti imbitti tre o cinque... boh, mi ricorda Maledetto fontana... guarda, mica c'è qua sono sti cosi qua, 50 Foltana non c'è più, non l'oro il teglio, cioè non c'è più proprio. Adesso muro del gatto, ci mancava solo il muro del gatto, ho il certificato medico non posso fare il muro del gatto. Questo è peggio, è l'altra volta. Wow! Grazie a tutti. Grazie a tutti.